Ore calde per il mercato del Sorrento che punta a creare una rosa competitiva per ripetere il buon campionato disputato lo scorso anno. I costieri si sono inseriti nella trattativa che vedeva coinvolto anche il potenza per Marcel Buckel, centrocampista inserito nella lista dei cedibili dalla SPAL. La direzione del giocatore sembrerebbe essere il girone C. Si continua a lavorare anche per due ex Avellino. Il club campano potrebbe legarsi a breve ad Antonio Matera, centrocampista classe 96 vanta più di 200 presenze in Serie C. Vicino anche l'esterno d'attacco classe 2001 Giuseppe Guadagni nell'ultima stagione alla Lucchese e in C anche con le maglie di Paganese, Avellino e Re Catantese. Sarebbe pronto per lui un contratto biennale. Il Trapani ha trovato l'accordo con Diego Zuppel, l'attaccante classe 2002 è già nella città siciliana. A breve arriverà la firma sul contratto, si aspetta solo l'ufficialità da parte del club Granata. Zuppel si legherà ai Siculi per due anni. Rinforzi in difesa invece per Crotone e Cavese. I calabresi sono vicini al difensore Riccardo Carniellutti. Il terzino lascerà il Giuliano per unirsi al club Rosso-Blu firmando un contratto triennale. Nuova esperienza in Serie C per lo Scuola Roma che vanta più di 100 presenze tra Girone B e Girone C. Benedetto Barba ha chiuso l'accordo con la Cavese, l'ex difensore centrale di Giuliano e Napoli con cui è stato capitano della primavera ha ultimato l'intesa col club neopromosso in Serie C. Per Barba lo scorso anno solo quattro presenze e quest'anno cercherà più continuità con i campani. In uscita da Benevento ci sarebbe Alberto Paleari. Rinnovo difficile con il Benevento. Il contratto del portiere scadrà infatti a giugno 2025 ma la linea del club Sanita non prevede le prestazioni dell'estremo difensore, ex Genova e Cittadella. Il giocatore sta valutando altre soluzioni con Salernitano e Spezia in pressing su di lui.